Conclusa la prima fase dell'intervento che riguarda il primo lotto della marinella di San Terenzo. I lavori sono iniziati ufficialmente lo scorso 15 maggio e nei giorni scorsi una parte della passeggiata a mare che conduce alla spiaggia è tornata nuovamente fruibile. Siamo molto soddisfatti perché siamo riusciti a aprire i primi 50 metri di passeggiata appunto verso la marinella di San Terenzo. Questo primo lotto è partito a maggio e ha visto la riapertura il 23 di giugno per questi primi 40 giorni di lavoro. Poi abbiamo sospeso per garantire la sicurezza della baia e i lavori ripartiranno il 2 di ottobre e permetteranno l'accesso fino alla parte precedente alla spiaggia. I lavori come previsto si sono provvisoriamente fermati per consentire lo svolgimento in sicurezza dell'attività legata all'elevata presenza dei turisti nelle acque antistanti la caletta. Il cantiere è quindi stato sospeso ma è possibile accedere al primo tratto di passeggiata che costeggia la baia. La seconda fase dei lavori inizierà il 2 ottobre e proseguirà fino al termine dell'intervento complessivo del primo lotto previsto entro la fine di novembre. L'amministrazione tiene molto a questo progetto che ha finanziato per questo primo lotto con circa 300 mila euro di risorse completamente di bilancio comunale. Quindi un impegno concreto a cui teniamo molto. Per il secondo lotto che vedrà la fine dei lavori si devono mettere in campo risorse importanti per circa 800 mila euro che stiamo cercando di reperire. Però abbiamo già un progetto definitivo quindi adesso c'è tutto il lavoro di reperimento. Come potete vedere una parte della marinella è ancora interdetta all'accesso monitorata con un sistema di videosorveglianza. Però riteniamo importante già questo primo passo e poi la conclusione del lotto. Appunto che i lavori partiranno nel mese di ottobre ci saranno circa altri 60 giorni di lavoro. È stata inoltre realizzata la progettazione definitiva del secondo lotto per il quale si stanno reperendo le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi, stimate intorno agli 800 mila euro. Nel frattempo a Lerice è stata ufficialmente riaperta al pubblico la prima caletta San Giorgio dietro al castello, anch'essa interessata da una frana avvenuta nel 2010. L'amministrazione è quindi riuscita a restituire ai cittadini e ai turisti uno degli arenili più suggestivi del territorio.